Presidente l'è molto chiaro e concreto allora le chiedo un titolo e un sottotitolo l'Italia divisa per colori ha funzionato finora? È un tentativo della regolazione fine bisogna dire lo si vede anche dal dibattito purtroppo stiamo scontando anche la mancanza di un sistema unico di rilevazione dei dati e una chiara definizione delle priorità di quali siano i dati più importanti i dibattiti interminabili che stiamo vedendo fra tutti eh competenti o diciamo preoccupati sui sui vari media dimostrano come a questo punto non è stata fatta una corretta gerarchia delle priorità anche in termini di dati. Quello che ci deve insegnare è che dobbiamo utilizzare la digitalizzazione in questo senso il recovery plan va eh va e per cercare di ottenere un plateau di dati che ci permetta sempre di tenere in monitoraggio le situazioni in questo modo anche come posso dire in certi momenti la dicotomia stato regioni potrebbe nutrirsi di dati almeno eh omogeni eh riferiti eh al alle esigenze reali del territorio grazie a tutti grazie a tutti